Oh, è uscito un mazzo bello, avevano capirsi forte, quindi quale modo migliore per testarlo contro il servizio massimeta? E anche Forbidden Dress, la sacra tonica di... tonica, mamma mia! La sacra tunica! Questa è divina! File, dimmi! Perché si vede solo il petto di Stefano? Perché è grossissimo! È un petroio! Ciao a tutti i ritardati, siamo qui con Stefano! Ciao a tutti ragazzi, come sempre quando il metacambia arriva le lezioni del professore Fai come me, comprali tutti! Parliamo di invece un altro nuovo supporto che è Bullimboosti E' assolutamente un bagnale! Oh, un cavio insensatico! Non disturbiamolo! Siamo qua con Cristian Ballocco Buonasera Cioè, Lorenzo vende le partite? No, mi dissocio, non è vero Siamo qui con Antonio Granato Che ha fatto Top 8 ad Alessandria Con Picasso Ciao ragazzi Una serie sulle carte censurate In quanto disegni un po' stiliti O non culturalmente accettabili E' un po' accettabile I'll be there for you I'll be there for you Cause you're there for me too Yeah I'll be there for you Come from人 No, misky' Salve Galai Rug